fuori di testa sì c'è sempre un bel clima in quella trasmissione oh Donato ha chiamato Donato vai Donato che cosa è successo Donato perché se ti è venuto il sangue al cervello per qualcosa dimmi la mia rabbia tu sai che è incommensurabile è successo con una blanca cacciata dai mostri i soldati di questi mostri c'era quello sporco a fianco e quella faccia da culo che ha telefonato è biancalano è un prende non offenda è un prete è un uomo di chiesa fa quello che dovrebbe fare lei ma come si permettere dovrebbe ringraziarlo voglio dare un po' di notte quello che cazzo fa con quei muscolati non so perché sono tanto clandestini maschi che vergogna che persona orribile che è che persona orrenda che è che persona brutta che è questa brutta brutta dall'animo sporco lei ha l'animo sporco proprio sporco sporco lei ha l'animo sporco questi preti questi porci preti che io mi vergogno mi vergogno che i preti siano così porci porci maledetti hanno visto i cazzi che arrivano dall'Africa tutti quanti con le palandrame con le minchie sotto che non si vanno più andare a sbordare con gli scuri ardenti con gli sfinteri ardenti andate a dire a quei ragazzi mettiamoli sotto tortura può essere capace questo uomo e vedete cosa cosa vi dicono cosa fa fanno i biancalani i biancalani qualche cazzo vogliono l'Africa in casa io l'Africa non la voglio in casa l'Africa in casa la combatterò fino all'ultimo e dove sono i dittatori tutti quanti se la prendono con i punisti se la prendono con i populisti se la prendono con noi con i razzisti con i fascisti se la prendono o cazzo se la prendono con quelle merda che governano quei paesi qualora fosse veramente così degradanti fossero veramente degradanti no se la prendono con noi se la prendono con noi per quanto riguarda il poliziotto io sono a favore completamente del poliziotto perché il poliziotto non c'era dubbio ma per forza dopo un secolo o meglio dopo cento anni dopo ottant'anni ci siamo visti gli africani in bicicletta in autostrada gli africani in bicicletta e non è male che un poliziotto lo vede ma che cazzo ma che cazzo ma tu non sai neanche andare in bicicletta ma la cosa ti lamenti il poliziotto sai cosa hai detto ecco l'ipocrisia anche della nostra bene non amata Boldrini la donna che dovrebbe stare bene a queste stanze perché lei è stata lei è stata beh allora quando c'è lei in quella camera che doveva essere bene in benessere camere sta distruggendo questo paese io ogni giorno e il poliziotto cosa e il poliziotto allora cosa vedi si ferma il poliziotto allora il poliziotto è un'ipocrisia dilagante allora io posso pensare tutto il male di quel negro tutto il male ma perché parlo mi queregano ma se io penso che quel negro dovrebbe essere mandato con la caccia allora con Parenzo con la palla a piede Parenzo se le dovrebbe portare con le palla a piede in Israele ma ancora non ti sono bastate tutte le querele che hai ricevuto ma non ti sono bastate quel porco mondo che si credono l'elite ma perché sei così ma perché sei così aggressivo ma perché voglio andare in Israele ma perché ma non ti accetto ma non ti fanno neanche entrare a te ma non ti fanno entrare per fortuna a te ci sono i migliori ospedali psichiatrici la migliore sanità criminali ma dove non sai cosa fanno gli israeliani cosa fanno anche uno studioso di Israele nemmeno l'Umi non ma cosa dici per cui ma dovrebbero far sparire te ma dovrebbero quelli del Mossade che non hanno tempo dovrebbero prenderti e portarti allora fra 30 anni fra 30 anni si parlerà perché ci siamo islamizzati perché cosa è che tra 30 anni lo sa cosa si risponde cosa è che perché i criminali della sinistra quei criminali che per me dovrebbero credermi se io fossi un assassino li ucciderei tutti ma è un'istigazione uccidere anche istigazione delinquere io non posso ammazzare non posso ammazzare quella centagna che è il Parlamento lo sai perché noi fra 30 anni saremo tutti islamizzati tecnicamente islamizzati leggendo anche il libro come si chiama e come si chiama come si chiama il libro noi saremo tecnicamente islamizzati come si chiama tecnicamente islamizzati tecnicamente no perché i porci della sinistra correvano dietro il fascismo il comunismo il comunismo il nazismo e non si preoccupavano che tra poco nel Parlamento entrerà la costituente islamica certo questo sarà una data da questi la costituente islamica c'è già qualche deputato islamico per fortuna nel Parlamento isoliano io voglio il Parlamento la costituente del confuso scusami Donato domandatevi perché c'è la costituente islamica Donato mi dicono qual è il tuo parere sul caso Brizzi il tuo parere sul caso Brizzi è il mondo del cinema credo che il mondo del cinema è per il 150% è fase di gentagli di sinistra ecco gentagli di sinistra questa è l'analisi profonda hanno preso tutto l'apparato del cinema per me sono come l'hanno preso 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 perché non ti dai un po' al cinema anche tu prova non lo so perché nel cinema di sinistra mi fa riprezzo come mi fa riprezzo fazio allora quella radio quella live io sempre so delle cose bisogna smantellarla 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 farla a pezzi farla a pezzi pure a pezzi a pezzi quel parere ma durante il giorno lei cosa fa però durante il giorno lei non parla così immagino cioè quando lei va al lavoro non è che quando le chiedono qualcosa al lavoro scusa non condanno gli italiani ma scusa durante il giorno cosa fa durante il giorno come li fa il biancalane il biancalane il paese è normale lei lei si vergognerebbe di chiamare in una radio pubblica biancalani ma no biancalani il problema non è biancalani il problema è lei no biancalani il problema è che lei è in circulazione biancalani dovrebbe andare in galera perché noi tra 20 anni io non posso nemmeno più parlare ha detto ma è di fortuna ma speriamo che avvenga tra poco questo non tra 30 anni perché voi voi siete le prime vittime dell'islam merda infinita porco di quel uomo di merda uomo di merda vorrei chiusare scusami Donato scusi Donato cosa fa lei durante il giorno ma posso sapere di cosa si occupa nella vita normale ne faccio le cellate ne all'islam e ne a Bertani ne a criminali della vita ne a prodi che cosa fa quando lei va a fare la spesa il sabato mattina cosa dice mi dia la birra ma come parla normalmente uomo di merda è tornato è tornato non avrai nemmeno il terreno sul quale camminare è tornato la tua famiglia non avrete il terreno sul quale camminare è tornato perché qua non ci sarà futura con milioni di africani qua ci mangeremo vivi qua ci sarà futuro italiani che non vogliono italiani italiani ciao Donato italiani Claudio da Milano vai è peggiorato poveretto è incazzato per quello che ha detto Biancalani c'è bisogno di 120 mila immigrati ogni anno dai su ma lo dice Biancalani lo dice anche il centro della confindustria dai su è anche incazzato giustamente dai poi allora ti volevo dire ma tu come fai a dire che gli immigrati vengono a rubarci il lavoro qua in Italia è incazzato l'uomo è incazzato Grazie a tutti